Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi grandi alluvioni hanno colpito il Bangladesh, il Nepal e l'India. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni e prego per le vittime e per quanti soffrono a causa di questa calamità. Sono arrivate tristi notizie sulla persecuzione della minoranza religiosa, i nostri fratelli Rohingya. Vorrei esprimere tutta la mia vicinanza a loro e tutti noi chiediamo al Signore di salvarli e suscitare uomini e donne di buona volontà in loro aiuto, che le diano i pieni diritti. Preghiamo anche per i fratelli Rohingya. Grazie.